Ciao ragazzi, allora in questo video vi parlo invece di un altro storico dell'arte abbastanza noto che ve lo consiglio di andare a vedere, che si chiama Erwin Panofsky, che è stato un grandissimo storico dell'arte del Novecento, contemporaneo di Roberto Longhi e Abbi Warburg. E' che dire di Erwin Panofsky? Allora è stato intanto uno storico dell'arte che ha studiato prevalentemente a Berlino, e iniziò a insegnare all'università intorno agli anni venti del Novecento. Intorno agli anni venti fondamentalmente ci sono le sue primissime pubblicazioni nel campo della storia dell'arte. Va ricordato la monografia di Albert Durer, che è abbastanza noto come libro. E va anche ricordato che lui fu un grandissimo amico e collaboratore di Abbi Warburg, che è stato uno storico dell'arte anche lui molto molto noto, soprattutto per la sua fototeca, che adesso che esiste ancora e adesso sono in un centro di studi legati comunque alla storia dell'arte. Dunque, cosa c'è di particolare da sapere di Erwin Panofsky? Lui è noto per aver scritto un famoso libro che si chiama Studi di iconografia, e tratta alcuni temi legati all'iconografia dell'arte rinascimentale, così. E una parte che tra l'altro l'ho letto e mi è piaciuto molto è la parte dell'interpretazione delle figure nelle opere di Piero di Cosimo. Piero di Cosimo è questo pittore qui. No, comunque, parlando di Piero di Cosimo e degli studi che ha fatto Erwin Panofsky, cosa ha fatto Erwin Panofsky? Nel 1939 pubblica un noto saggio, un noto libro, su sugli studi di iconografia e iconologia, ripubblicato più volte, anche dopo il 1939. E lui cosa fa? In un'opera di Piero di Cosimo, che poi non è un'opera, è un ciclo di dipinti, che è un ciclo di dipinti che si trovano adesso a Oxford. Sono degli dipinti che Erwin Panofsky gli studia ed ha una certa interpretazione. Alcune di queste opere che lui ha guardato, per lui sono delle interpretazioni, è un collegamento che fa tra il Dererum Natura di Lucrezio e le opere di Piero di Cosimo. Fondamentalmente le opere di Piero di Cosimo si rifanno ai testi di Lucrezio, in questo caso del Dererum Natura di Lucrezio. Le opere sono queste. No, e oltre a questo Erwin Panofsky continuerà a insegnare, poi a un certo punto scappa durante la Seconda Guerra Mondiale con l'arrivo dei russi e dei americani. A un certo punto va a studiare negli Stati Uniti, in particolare a Pittsburgh, dove c'è la nota universitaria di Pittsburgh. Morirà nel 1967. No, scusate, nel 68, muore. E niente, questo è la cosa più interessante. Ecco, va ricordato di Erwin Panofsky il fatto che lui, appunto, si è specializzato in iconografia e iconologia. Visto che io vi ho citato Abby Warburg nel prossimo video penso di parlare del Pathos del Pathos Forme che è un modo di vedere i quadri a livello iconografico. Bene ragazzi, con questo video è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video e vi saluto e ciao.